questo qua è un proiettore Prevost modello Magnus 50 è il proiettore che è il modello dopo il proiettore di nuovo Cinema Paradiso il proiettore che usavo fino all'anno scorso ed è una macchina che è stata trovata qua a Bologna io l'ho revisionata sistemata e proietta benissimo è una proiezione fenomenale un proiettore che ha 70 anni ho avuto la passione del cinema da ragazzino quando avevo 14 anni ho iniziato a frequentare le cabine di proiezione puntualmente mi spedivano fuori perché ero troppo giovane ho iniziato la mia prima proiezione per il pubblico nel 1977 con il film Mary Poppins ed un cinema pieno e da allora non mi sono più fermato il mio mestiere principale non è più il proiezionista ho smesso nel 1998 di farlo professionalmente io faccio l'installatore i proiettori digitali nei cinema, i riparo, l'installo e ho cominciato per passione a Genova la mia città quando ho cominciato ero il proiezionista più giovane a 18 anni io lavoravo nei cinema di prima visione e proiettavo film. Il film ungherese che mi è piaciuto di più è Diario per mio padre e per mia madre di Marta Mesaros dove c'è un bellissimo primo piano di mia moglie che era amica della regista è amica della regista